Oggi a Klima House presentiamo non una ma una serie di novità. Uno dei maggiori punti di forza è quello di avere una gamma completa, quindi sistemi per riscaldamento e condizionamento per tutte le potenze e per ogni tipo di combustibile. Voglio parlarvi di Vito Caldense 222F che è un sistema compatto, pompa di calore, caldaia a condensazione e bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria. Quindi un sistema ibrido che combina i vantaggi della pompa di calore e del generatore a condensazione che può essere abbinato anche alla ventilazione meccanica Vitovent 300F e può essere gestito da smartphone e quindi un prodotto che si adatta alle moderne esigenze delle abitazioni. Grazie. Grazie.